salve a tutti e benvenuti sul canale di one piece i massimi esperti da katakuri oggi parleremo di un altro membro di mugiwara ossia asop soga king o god asop come preferite lo confronteremo con un grande arciere giapponese del passato iniziamo quindi con il cenno storico il grande arciere minamoto no tametomo nato nel 1139 e morto nel 1160 è stato un samurai del periodo ean che combattere la ribellione di ogen era figlio di minamoto no tameyoshi e il fratello di yuki e e yoshi tomo tame tomo è noto nelle cronache epiche come un potente arciere il più grande della storia giapponese infatti si dice che una volta abbia fondato una grande nave dei taira con una sola freccia perforandone la chiglia sotto la linea di ralleggiamento in molte leggende si aggiunge anche il su che il suo braccio sinistro fosse di circa 10 cm più lungo di quello a destra permettendogli così una trazione più lunga della freccia e ovviamente colpi più potenti si vede anche tametomo che scaccia dei demoni in varie stampe datate nel 1890 dopo la ribellione di ogen i taira tagliarono i tendini del braccio sinistro di tametomo come punizione limitando così l'uso del suo arco e alla fine lui si uccise commettendo seppuku è alquanto probabile che egli sia il primo guerriero della storia del giappone a commettere seppuku nelle cronache rapportando la guano poi visto e considerato che non ci sono stati mostrati arcieri dal lato dell'alleanza ed una figura così importante può essere raffigurata sicuramente dal nostro asop per lui noi crediamo ci saranno diversi power up facendo riferimento alla leggenda potrebbe veramente affondare quindi le navi nemiche e questo attraverso dei miglioramenti sia nelle armi e non solo nelle armi la prima cosa in cui crediamo è che così facendo come le piratesse cugia di amazon lì di lui possa achizzare le proprie armi sviluppando così l'achita d'armatura dopo naturalmente il miglioramento che già c'è stato per quanto riguarda l'achita da percezione che abbiamo visto adresse rosa naturalmente potrebbe anche utilizzare armi di agroalmatolite visto che a guano è ricca di questo minerale e ricordiamo i ciodini utilizzati da occhi in secondo tra fargallono tecnica che creerebbe grandi difficoltà per tutti i fruttati nemici ovviamente e le conclusioni le fa non che di diciamo in finale alla fine che inoltre ci sono diverse bugie caso per raccontato durante il manga e l'anime e che vuole diciamo realizzare via via alcune già le sta realizzando vi dico quelle che potrebbero diciamo realizzarsi in concreto qui a wano kuni ad onigashima per l'esattezza la prima è battere dieci giganti umanoidi e qui ci sono i cosiddetti numbers sperando che il numero sia quello che vedremo in penombra ma ne erano abbastanza la seconda è quella di battere un volatile un condor di colore nero a volte sia a volte no gigante e qui abbiamo un certo pterodonte la prima calamità di kaido il cosiddetto king l'incendio ma questo avverrebbe in combinazione con il grandissimo spadaccino della nostra ciurma cioè ronoroa zoro grazie alla figura che abbiamo diciamo approfondito in modo molto egregio lo spunto ci sarà dato da uno dei nostri fan dai godani che ringraziamo ancora una volta senza però allontanarci troppo dall'approfondimento e dalla teoria e la diciamo a confronto con questa leggenda giapponese asof per noi rappresenta proprio questo leggendario arciere minamoto no tame tomo l'unico grande arciere cecchino che potrà compiere queste gesta leggendare quindi finisce qui il video teoria ricordatevi di lasciare un like ma soprattutto iscrivetevi al canale youtube se non siete ancora iscritti e dite voi cosa ne pensate qui nei commenti che questa cosa è più importante iscrivetevi tutti i link in descrizione come sempre alla prossima al prossimo approfondimento al prossimo video ricordatevi un saluto pirati